Ehi la ciurma, io sono Matti Tess e benvenuti in questa recensione per The Mystery of Wooly Mountain, another worldly adventure game. Anche questa è una recensione per parte di The Buy, the big adventure event organizzato da Hitsent e sono un po' in ritardo nel portarvela per tante ragioni. Si tratta anche questa di un'avventura punta e clicca, come è stata quella di Nellie Cucelot, di cui dovrebbe essere già uscito il video in precedenza, ma questa qui, nonostante anche essere caratterizzata dal medio-basso budget, è molto più legata ai vecchi stili di avventura grafica. Infatti, sia della grafica che della struttura stessa e dai richiami interni, fa molto l'occhiolino a chi giocava alle avventure grafiche degli anni 90. Purtroppo, essendo una di quelle persone, molti di questi rimandi per me sono caduti nel vuoto e di sicuro non sono uno dei grandi apprezzatori di questo titolo. Ci sono davvero tante, tante, tanti easter egg o comunque collegamenti per quello che erano le avventure grafiche di quegli anni che ovviamente per me sono cadute nel vuoto. In questa avventura grafica ci troviamo a gestire un gruppetto di personaggi che formano una squadra che deve andare a recuperare uno dei personaggi che è stato il componente di questo gruppo che è stato rapito. È andato in una missione per questa woolly mountain, è stato rapito e quindi dobbiamo andare a salvarlo. Ma in questo ci sono delle peripezie che dobbiamo andare a risolvere. Anche questo molto spesso sono più che altro degli intoppi. Nel senso che la via dritta sarebbe molto molto veloce, ma troviamo costantemente degli intoppi per cui dobbiamo andare a riformare tutto il gruppetto. Però uno non vuole più collaborare, l'altro invece è stufo, eccetera eccetera. Quindi bisogna prima andare a risolvere quel genere di situazioni. Poi arriviamo là nel posto, ma in realtà ci sono degli altri intoppi, poi uno non vuole più collaborare, dobbiamo risolvere varie situazioni che appunto anche quelle ho trovato un po' non so quali effettivamente il collegamento rispetto agli stilemi che c'erano per quello che riguarda le avventure grafiche di quel periodo, ma adesso l'ho trovato un po' non dico negativo, ma non particolarmente gradevole il fatto di avere costantemente questi intoppi sentiti come non necessari che devono farci risolvere dei vari enigmi. Inoltre in generale ho trovato il livello di difficoltà degli enigmi più alto rispetto a quello che riguarda la media delle avventure grafiche contemporanee e anche dello stesso Nell'Equitalot, che era di per sé abbastanza semplice. In vari momenti mi sono ritrovato bloccato e in alcuni di essi sono dovuto andare a guardare delle soluzioni per cercare di capire come procedere almeno. Inoltre alla fine anche lo stesso finale non è particolarmente emozionante, non mi ha colpito particolarmente, per cui devo dire che sono rimasto un po' metà e metà per quanto riguarda questo gioco. Non mi è dispiaciuto particolarmente ma mi è sembrato davvero qualcosa di non adatto a me, di non indirizzato a me. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi se per caso non vi siete fatti, ci vediamo nel prossimo episodio. The Mystery of Money Mountain comunque si trova su Steam al prezzo di 11 euro circa. Io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti! Grazie a tutti!